presentiamo l'ultimo tipo prodotto è un dispositivo totalmente autonomo dotato di un led che si colora in funzione dell'intensità della pressione che esercitiamo è collegato via bluetooth con terminali sia smartphone che tablet android o ios ed utilizza il loto vent personale fatto che è estremamente importante per l'igiene andiamo a vedere come funziona lo accendiamo ecco intanto il dispositivo accende il led mettiamo il nostro auto vent ed esercitiamo pressione andiamo a vedere quello che succede nella nello schermo del nostro ipad ecco vedete come il dispositivo ha trasmesso il dato e il dato è disponibile in termini di valore e anche con una rappresentazione grafica sul sulla app questa è un app che è totalmente gratuita è disponibile in rete non ha problemi di aggiornamenti dei sistemi operativi quello che avete poc'anzi sentito è un bip che avvisa che dopo un po il terminale non è stato utilizzato e quindi c'è un avviso sonoro un solo avviso sonoro per ricordare di spegnere il terminale se non occorre più ringrazio per l'attenzione per l'attenzione